Madre in mezzo a una generazione di orfani, i figli di genitori assenti, i ragazzi di un lavoro, gli adulti di una vita a misura d'uomo e talvolta lei stessa a rischio di essere piuttosto una madre sterile. Papa Francesco guarda la Chiesa del suo tempo con amore e realismo, mentre su di essa riflette alla presenza delle migliaia di delegati della Diocesi di Roma, riuniti lunedì in aula Paolo VI per l'apertura dell'annuale convegno diocesano guidati dal cardinale vicario Agostino Vallini. Viviamo, ha detto il Papa, in una società che non è madre perché rinnega i suoi figli. I giovani italiani, ha detto, senza lavoro sono il 40% e allora ha affermato la Chiesa non deve smettere di generare figli. La sfida grande della Chiesa oggi è diventare madre, madre, non una ONG ben organizzata, con tanti piani pastorali. Se la Chiesa non è madre, è brutto dire che diventa una zitella. Ma diventa una zitella, è così, non è feconda. E non solo fa figli la Chiesa, la sua identità è fare figli, cioè evangelizzare. E tanto più giovane diventa la Chiesa, ha osservato Papa Francesco quanto più diventa madre. Per un cristiano, allora, essere nella Chiesa è essere a casa con mamma. È la Chiesa madre, come una madre che carezza i suoi figli con la compassione. Una Chiesa che abbia un cuore senza confini, ma non solo il cuore, anche lo sguardo, la dolcezza, la dolcezza dello sguardo di Gesù, che spesso è molto più eloquente di tante parole. Le persone si aspettano di trovare in noi lo sguardo di Gesù, a volte senza nemmeno saperlo. Quello sguardo sereno, felice che entra nel cuore. In Papa Francesco, tenerezza fa sempre rima con concretezza. Dunque, ha concluso, la Chiesa è mamma solo se è accogliente, se le sue parrocchie lo sono, se lo sono in particolare con i giovani. È più facile fare il vescovo che il parroco, ha esclamato con simpatia il Papa, perché il parroco è sempre in prima linea. Ma voi parroci, ha incoraggiato, siate vicini alla gente, come quei preti capaci di alzarsi a qualsiasi ora per andare a trovare un ammalato, di non lasciare nessuno morire senza sacramenti. Che non sia la parrocchia una istituzione di congiuntura, che sia storica, che sia un cammino di conversione pastorale. Che nel presente sappia accogliere con tenerezza e sappia andare avanti i Suoi figli con la speranza e la pazienza. Una Chiesa di fede, che creda che il Signore è capace di farla madre, di darle tanti figli. La nostra Santa Madre Chiesa. Grazie.